Una festa per famiglie e non solo la gara competitiva. Questo è stato la Stacittadina dell'Aquila, organizzata nell'ambito delle manifestazioni previste per l'arrivo della tappa aquilana del Giro d'Italia, dalla SD Atletica Abruzzo. Tantissimi partecipanti con i vincitori assoluti che sono stati Beniamina Dugna, assoluto, e Barbara Mariano per le donne. 10 chilometri tra le bellezze di una città ancora ferita, in un sali e scendi interessante ed emozionante, apprezzato anche dai corridori di fuori. Ogni volta che c'è una gara competitiva e meno è sempre una giornata di festa. Vedo che la città ha risposto molto bene, non solo la città, anche dai paesi limitrofi e oltre sono venuti per onorare questa organizzazione e questa manifestazione e soprattutto perché il pensiero è sempre vicino all'Aquila, quindi mi sembra che tutto stia funzionando al meglio. Le presenze sono state importanti anche da parte di team provenienti dal resto d'Abruzzo a testimoniare un legame di amicizia con la città. Ad aprire la giornata sono stati più piccoli, con una piccola stracittadina baby davanti a Colle Maggio. La pioggia non ha rovinato una bella giornata di sport. Ciao stracittadina!